80 ore di lavorazione, un centinaio di ciak, 10 puntate, 30 ospiti, una quindicina di chef, 3 vongolare, 10 pescatori, una truppe ed un conduttore. Sono i numeri della nuova produzione televisiva di Fano TV, Cuochi di Bordo, il titolo della trasmissione che da metà ottobre prenderà il via sul canale 17, visibile in tutte le marche, che parlerà innanzitutto delle nostre vongole, orgoglio locale, oltre ai bombolini, assieme alla specie ittica di maggior pregio del nostro mare, realizzata in collaborazione con l'associazione Vongolai, l'associazione armatori piccola pesca e produttori pesca con fondi comunitari e regionali del FLAG Marche Nord. Parte dal contesto del FLAG, del GAC, dove si sperimentano attività di integrazione della pesca, che poi è la parte centrale degli interessi del GAC Marche Nord, che comunque si deve collegare con il territorio. Quando parliamo di sostenibilità sociale, significa la sostenibilità di tutto il territorio, la pesca ha una funzione anche di sostenibilità sociale. Con la pesca, con il pesce, si raggiungono obiettivi di promozione anche del turismo. Senza pesce, senza pesca, questo sarebbe un territorio molto, molto meno appetibile. Abbiamo cercato di integrare col territorio, anche coi prodotti, avete visto dentro, vedrete anzi, dentro questi piatti c'è tutto il nostro territorio. Uno sforzo di produzione degli operatori ittici, che vedono nella promozione e divulgazione della sana alimentazione, un elemento indispensabile per sostenere l'economia legata al mare ed indirettamente al territorio, alimentando il circolo virtuoso di accoglienza, prodotto fresco pescato e ristorazione. A cuochi di bordo, queste dieci puntate che hanno messo in campo appunto la gestione Vongolai di Fano, è una bella intuizione. È una bella intuizione perché la promozione di un prodotto del pescato nostro, che più si conosce, più viene apprezzato dalla gente che ci viene a trovare, non solo, anche per noi cittadini che ormai abbiamo connaturato la nostra mensa il consumo di pesce, quindi forse una regione, una città dove si vive a lungo anche grazie alla qualità del mangiare, alle tradizioni sane, unitamente all'olio, unitamente al vino, ci consente di raccontare una città da un punto di vista percepibile da tutti, apprezzabile dal turista che dice, beh, qui si mangia bene, c'è un'alta qualità della vita, è un luogo piacevole dove stare e poi soprattutto promuove un settore che ha subito una crisi e che la politica deve cercare di proteggere per rilanciare perché fa parte di un'attività economica straordinaria. In ogni puntata un marinaio, gomito a gomito con uno chef, dopo aver acquistato al mercato del pesce fresco di giornata, si chiudono in cucina ed esprimono il meglio della cucina creativa e quella tradizionale, dopodiché a tavola a gustare le loro prelibatezze un parterre di tre ospiti diversi per ogni puntata. Marinaio e conduttore, colui che vi parla però, sono sempre gli stessi. La parte un po' più ludica, divertente, così l'abbiamo affrontata in due, in cucina sotto le fatiche dei fuochi, dei cochi, con Riccardo che ci teneva sempre. Però insomma, a parte questo, l'Associazione Vongolai ha voluto metterci lo zampino attraverso te e quindi essere a pieno nel programma, perché la vongola è un elemento che c'è sempre nelle puntate. Sì, la vongola, tu lo sai Lino, è la miglior cosa per fare un piatto di spaghetti, quello o quell'altro. Poi, come ti voglio dire, per me è stata un'esperienza bellissima, no? Perché ti ho detto, io sono un amante della cucina e avendo visto tutti questi cuochi, questi ristoratori, come lavorano, per me è stato anche un bagaglio in più personale. Poi con te Lino, cosa devo dire? Sara Jane, ne vogliamo parlare di Sara Jane, va bello, vedranno nelle puntate, quando scorreranno le puntate. Comunque, veramente, per me è stato molto, molto, molto bello, ecco.